Ci sarà una robusta ripresa nella seconda metà dell'anno con una crescita superiore al 4% anche dalla relazione annuale del governatore di Banca Italia Viscola conferma di una duratura ripresa economica del Paese dopo quella che viene definita la più profonda recessione dalla dopoguerra. La lotta al Covid prosegue ma la campagna vaccinale garantisce speranze motivo per cui le imprese già pianificano investimenti e le famiglie finora caute potrebbero tornare a spendere ma sullo sfondo a sostegno della ripresa arriveranno i soldi del recovery plan, il piano di ricostruzione dell'Europa di oltre 200 miliardi che potrebbero dare quella spinta definitiva che serve all'economia ma per Visco il piano deve essere ben organizzato e non si deve perdere tempo solo allora e con le riforme annunciate portate a conclusione si potrà avere una crescita costante nei prossimi 10 anni sul tema dei licenziamenti che divide la maggioranza e alimenta lo scontro tra governo e sindacati Visco avverte che quando finirà il blocco bisogna essere pronti a cambiamenti in quanto non si può pensare ad un futuro con sussidi e incentivi per un Paese che comunque deve gestire un mostruoso debito pubblico in Italia sarebbero oltre 3 milioni di giovani che non studiano e non lavorano e questa resta una sfida da vincere il messaggio che arriva dunque da Banca Italia resta quello di guardare con fiducia al futuro e lavorare tutti insieme per uscire dalla crisi